10 ragazzi e ragazze di Tito fermati dal virus sanno che l'Anspi ha qualcosa da dire e vogliono farsi conoscere. Decidono di pensare al futuro in modo lungimirante, facendo sentire la propria presenza e la propria voce in città, mettendo in rete le competenze che hanno e scoprendone di nuove. Che fare? Come? Formarsi! Collaborare! Incontrare le imprese che nelle crisi riescono accogliere le opportunità, riutilizzare i materiali di scarto delle imprese coinvolte, progettare un evento con le altre associazioni, raccontare il progetto, definire il progetto educativo per i prossimi anni. Arte oratoria! Pronti? Partenza? Via!